siamo con il dottor orso che è il responsabile della struttura vaccinazioni dell'ospedale di guarda di milano e parliamo di vaccino per la meningite la prima domanda è perché è importante raccomandare la vaccinazione e in particolare a chi è consigliato il vaccino allora la raccomandazione ovviamente vale per tutte le fasce di età compatibilmente con la situazione clinica di base e il tipo di meningococco verso il quale andiamo a proporre la vaccinazione la malattia oggi come oggi per fortuna è abbastanza rara soprattutto nelle sue manifestazioni più tanti che sono il decesso però malgrado sia rara può comunque quando qualora anche il decesso non intervenga lasciare delle conseguenze che poi il soggetto deve sopportare per tutta la vita e quindi è meglio evitarla insomma ecco entrando nello specifico nel vostro centro quali sono i vaccini disponibili e con quali modalità vengono somministrati allora intanto cominciarei col dire che i batteri che possono causare la meningite sono diversi e non sono solamente il meningococco b o il meningococco ac w y che sono quelli correntemente più conosciuti anche l'emophilus influenza può dare delle forme di meningite anche il premococco può dare delle forme di meningite chiaramente dobbiamo posizionare questi batteri nell'arco temporale dell'età dei soggetti il meningococco b è più frequente nei neonati nei bambini più piccoli il meningococco tetravalente è presente sia nei bambini piccoli che molto frequentemente purtroppo anche negli adolescenti mentre invece se parliamo di premococco di emophilus questi si presentano più facilmente nell'età più avanzata e soprattutto i soggetti che hanno delle patologie croniche come il diabete o patologie polmonari o cardiache tutti questi batteri sono comunque prevenibili tramite vaccini e i vaccini sono disponibili questi i vaccini sono disponibili in tutti i centri vaccinali per quanto riguarda l'aspetto sanitario in generale cioè diciamo la copertura vaccinale della popolazione qual è il messaggio che il medico di famiglia può dare ai suoi pazienti su questo tipo di vaccino allora se parliamo di meningococco b la copertura che abbiamo in regione lombardia è direi eh abbastanza abbastanza ragguardevole quindi da questo punto di vista diciamo che siamo abbastanza a posto per quello che riguarda il meningococco c w y per in questo caso eh diciamo che c'è un po' di terreno da da comunque da da bisogna aumentare un pochino le coperture soprattutto perché questo è un vaccino che viene prevalentemente somministrato nell'adolescente per quello che riguarda il medico di medicina in generale soprattutto direi che è ha un ruolo fondamentale e centrale nel verificare soprattutto nel caso abbia dei pazienti portatori di patologie croniche o immunodeficienti o per cause primarie o a seguito di eh patologie o perché stanno facendo delle terapie per esempio nel caso dei tumori assolutamente devono consigliare a questi pazienti la vaccinazione per la meningite in questi soggetti peraltro il il protocollo eh vaccinale regionale prevede la somministrazione gratuita quindi è anche non c'è nemmeno diciamo la debito di una spesa per queste vaccinazioni. Un'ultima domanda riguarda la sua esperienza personale come responsabile di un importante centro vaccinale eh ci sono delle differenze rispetto al passato nell'accesso a questi vaccini? Ma allora per quello che riguarda la mia esperienza personale e del mio centro no l'adesione alle vaccinazioni è rimasta eh esattamente identica a quella diciamo pre covid perché poi il periodo covid ha procurato un po' di danni in questo senso noi siamo riusciti a recuperare le coperture eh le persone vengono si affidano direi eh nella quasi totalità dei casi a quelli che sono i consigli che io e i miei colleghi che operiamo nel centro vaccinale danno e quindi direi che da questo punto di vista direi di no non ho notato particolari differenze. Eh il messaggio fondamentale è quello dei soprattutto relativamente ai medici in medicina generale che devono assolutamente interessarsi della situazione vaccinale dei loro pazienti eh soprattutto relativamente ai pazienti che hanno delle patologie croniche. Noi siamo per esempio in Europa uno dei paesi con la copertura più bassa per esempio per l'antitetano per il tetano eh negli adulti eh noi stiamo facendo una grande opera di di informazione da questo punto di vista quando si presentano anche ragazzi giovani con i piccoli i bambini piccoli a vaccinarsi qui da noi noi facciamo anche un counseling per queste vaccinazioni ed è assolutamente ehm così molto molto triste vedere che i ragazzi di trenta, trentacinque anni, quarant'anni sono assolutamente scoperti per il tetano ma neanche sapevano che ogni dieci anni il tetano va va richiamato. Secondo me l'importanza che hanno i medici di base è nel darci una mano nel far venire fuori un grande sommerso che c'è soprattutto nell'adulto perché il bambino riusciamo a gestirlo bene o male noi senza grossi problemi ma l'adulto se non c'è informazione anche nella classe medica ci sfugge.